Siamo qui con Pietro Battiato, partecipante con la squadra Carne, Delizie e Monacea. Dobbiamo dire innanzitutto una cosa, l'anno scorso già, non dico a me la torna, ma anche all'inizio si sapeva che la tua squadra vinceva e così è stato. Infatti siete i vincitori uscenti del tornaio del Piazzetto. Quest'anno sei rimasto nell'anonimato, non si sa chi è Pietro Battiato. Come la pensi questa cosa? Non si sa, Pietro Battiato lo sanno tutti chi è, che quando vuole una cosa la ottiene. L'anno scorso sono partito in prima perché ero sicuro dei mezzi che avevo e che andavo a vincere. Quest'anno sto giocando con una squadra, mi sono messo anche io in campo perché non c'era piacere, almeno così ce la giochiamo con me in campo. Quest'anno il nostro obiettivo è divertirci, andare fino alla fine, anche se l'ultimo partito abbiamo pareggiato, ovviamente mancavo io in campo perché quando ci sono io si vince. Quando non ci sono io non si sa che cosa fanno i ragazzi, però fino a quando ci sono io prometto che vinco. Poi quest'anno non conosco le squadre, non l'ho seguito tanto bene il torneo perché sono concentrato in altri posti, non spezzando il Piazzetto perché per me è un bellissimo torneo. Però quest'anno sono fuori, a fare tornei fuori. Però secondo me diciamo la nostra in questo torneo perché i ragazzi ce l'abbiamo, mezza squadra dell'anno scorso, tra cui quelli fissi che giochiamo sempre insieme, io, Alfonso, Marcaiello. Siamo sempre insieme, abbiamo fatto, Salvo Morace dice vuoi venire con noi e ci siamo andati tutti e tre. Speriamo che arriviamo fino in fondo, poi quello si vede quello che dobbiamo fare. E allora vi faccio un imboccolupo dall'organizzazione e buon proseguimento del torneo. Grazie, anche a voi. Grazie. Grazie.